Eccoci in diretta sempre da Campione d'Italia, vediamo anche Bobo Vieri che è venuto ad assistere il torneo qui a Campione Stiamo seguendo per poche d'Italia web.org il torneo 1100 Sono 140 i partenti, 96 giocatori ancora in gioco Facciamo un giro sui tavoli Vediamo un attimo Vediamo un po' che sta succedendo a questo tavolo No, 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 no Dai, questo è uno dei tavoli più tecnici che ho meccato il no è per lui il no è per lui il no è per lui non è per lui tu sai che tu hai visto lì? quello che mi sta più imprendendo è che ha chiamato il Shady Pick è chiamato il Shady Pick passiamoci continuiamo la nostra passeggiata sempre in diretta da Campioni d'Italia per questo main event siamo al primo giorno domani si continuerà anche la domenica e si vedrà il vincitore